Si sono spostate a Rendola le ricerche di Manfredo Giovi, l'86enne ex cacciatore di Mercatale, di cui si sono perse le tracce ormai da sei giorni. C'è infatti un avvistamento avvenuto la scorsa domenica mattina, ma avvenuto alla luce solamente ieri. L'uomo in vita è stato visto in un sentiero ai limiti del bosco più vicino a Rendola, un indizio finalmente in più nelle ricerche. Ad avvistarlo un ciclista che non risiede in zona e che era impegnato in una corsa. Il giovane lo avrebbe incontrato in una piazzola, l'anziano sembrava confuso ma non avrebbe comunque chiesto aiuto. L'86enne soffrirebbe infatti di problemi di memoria e potrebbe aver smarrito la strada di casa. Il ciclista, solamente ieri ha visto le foto dell'uomo su internet, ha ricordato quell'incontro e ha allertato immediatamente i vigili del fuoco. Da questa mattina così le unità di comando locale dei pompieri di Arezzo e Montevarchi si sono spostate alle porte di Rendola. Da qui sono perdite le ricerche, impegnate nuovamente anche le unità cinofile. Assieme ai vigili del fuoco ci sono anche i chiacciatori della zona che conoscendo bene i sentieri e le aree di bosco volontariamente hanno deciso di mettersi a disposizione dando una mano nelle ricerche. Infine stanno andando avanti anche le verifiche con i sommozzatori nei corsi d'acqua, nei laghetti e in alcuni pozzi trovati in queste zone.